Eccoci con Emanuela Rossi, sceneggiatrice e regista di Buio. Ciao Emanuela. Salve a tutti, contenta di essere a Porretta Cinema, un festival che conosco da anni e stimo. Bene, allora io comincio subito con le domande e prima di passare al film ti chiedevo se ci potevi raccontare qualcosa di te. Chi è Emanuela Rossi e come è arrivata al cinema? Qual è stato sul tuo percorso? Beh, il mio percorso è un po' particolare forse. Io ho fatto il Dams a Bologna, quindi insomma è storia del cinema e questa è la partenza diciamo classica giusta. Poi ho fatto, ho preso una deviazione, per dieci anni sono stata a Milano nei Femminili, grazie a Marie Claire Casavogue, perché forse ho avuto paura di andare subito a Roma, cioè lo volevo ma così, mi è sembrata un azzardo anche insomma dovevo anche guadagnare, quindi era difficile andare subito a Roma. Insomma comunque non l'ho fatto e va bene. Poi dopo a un certo punto poi ho capito che che sarebbe stato impossibile rinunciare, cioè io volevo fare il film, volevo fare il cinema e quindi ho preso e ho lasciato tutto, devo dire sono stata coraggiosa e sono venuta a Roma e qui ho chiaramente ricominciato da zero, facendo dei cortometraggi, devo dire il primo soprattutto è andato molto bene, si chiamava il bambino di Carla, è stato subito ai nastri ai David e quindi in qualche modo sono stata, non so come dire, rassicurata, ecco che non fosse una pazzia. Devo dire il primo giorno di sette del mio primo corto è stato, cioè io non ero mai stata in un set prima, mai stata, quindi diciamo così, un istinto ecco, non ho mai fatto scuole, è stato un istinto, però io ero quasi sicura di riuscire, insomma di saperlo fare, c'è qualcosa che ti dice sì, fallo. Per me. Ok, e che tipo di regista sei? Domandona. È una domandona, beh insomma chiaramente poi lo devono dire gli altri, però posso dire che io ho proprio una passione. Questo l'ho capito soprattutto facendo le serie tv, perché io ho fatto due anni una serie tv che si chiama Non Uccidere, come co-regista, è abbastanza nota insomma con Miriam Leone su Rai 3, e qui è la vera diciamo battaglia, cioè il campo di battaglia, è il generale con l'elmetto, con la truppa, diciamo proprio, e credo, insomma, io facevo la linea esterna, cosa diciamo già difficile una donna è, la linea esterna a gennaio, per dire, a Vercelli, dentro nelle risaie, e quindi insomma, io mi diverto, mi piace, c'ho una passione per il set, per diciamo il comando, adesso detta proprio brutalmente, mi diverto, anche appunto lì c'avevo una truppa di 70 persone, non lo so, non mi è mai pesato, sempre divertita, quindi sono una regista entusiasta del set. Poi, certo, è chiaramente molto diverso il proprio film, insomma, io ho fatto prima la serie tv e poi il film, è diverso, insomma, io chiaramente sono molto maniacale, l'esperienza, per esempio, anche di Milano, Casa Vogue, eccetera, mi ha dato un'attenzione, forse, diciamo, maggiore che altri, rispetto al design, insomma, anche alla scenografia, e questa è una cosa che a me piace molto, e ai costumi. Eh, infatti, guarda, io ti avrei fatto una domanda a riguardo, dopo te la farò. Bene, parliamo quindi di buio, come ti è arrivata questa storia, oppure come l'hai costruita? C'è stata un'illuminazione? Diciamo, buio, chiaramente, diciamo, in buio confluiscono tante cose, no? Come forse si può immaginare. Da una parte, qualcosa di personale, io credo che forse nel fondo quasi tutte le donne possono, sì, questa è una storia dura, estrema, eccetera, però credo che quasi tutte le donne possano riconoscersi in qualcosa, no? Cioè, comunque la sensazione un po' di aver subito qualcosa, e anche di, cioè, di un'oppressione, ecco, io, almeno io, so, lo sento, l'ho sentito tanto. C'è il sole che... E poi, questa è una parte personale, però grazie a Dio non autobiografica, semplicemente personale, anche raccogliendo l'esperienza di tante, no? Di tante donne che ho ascoltato, anche io prima, diciamo, nei femminili ascoltavo anche le tantissime donne, insomma, c'è qualcosa che io ho elaborato in tanti anni. Viceversa, diciamo, c'è anche una componente cinematografica, chiaramente in buio credo che qualsiasi cinefile possa vedere, no? Delle ispirazioni cinematografiche di vario tipo. C'è stata questa nuova ondata, nouvelle vague del cinema greco, che a me ha colpito molto, no? Questo cinema della crudeltà, quindi l'Antimos e Avranas, insomma, sto parlando di Dog Tooth e di Miss Violence. Io li avevo visti subito, cioè questo non l'ho visti adesso, ma io mi ricordo Dog Tooth e l'avevo visto a Parigi. Sì, quando è uscito, no? E mi aveva abbastanza, diciamo, trapassato il cuore, cioè il sole, perché sentivo, insomma, che questa storia mi apparteneva e, insomma, anche Miss Violence mi ha colpito, però non del tutto positivamente. Nel senso che mi sembrava, alla fine, che per, diciamo, denunciare una cosa, alla fine non si facesse che reiterarla. Cioè, la violenza di Miss Violence, io sto parlando, penso, a un pubblico di... Sì, sì, certo. No, quindi in qualche modo possono, insomma, recepirlo. La violenza di Miss Violence, cioè, reiterava la stessa violenza, cioè vedere quella scena del padre o di, insomma, o altri, insomma, uomini con questa ragazza, secondo me, alla fine non faceva che confermare la violenza, no? E questo credo che sia una caratteristica anche del regista maschio, no? In qualche modo identificarsi con il padre. Questo io sono uscita dal cinema dicendo io questo non lo farò. Ecco, e se c'è una cosa su cui io devo assolutamente, diciamo, agire è fare il contrario di questo. Ho spostato l'attenzione dal padre alla figlia, su Stella, ed era esattamente, cioè, questo era il mio compito, non so come dire. Io volevo fare questo, volevo spostare in questo tipo di storie così archetipe, così violente, così tutto, volevo spostare l'attenzione sulla ragazza, cioè, sulla vittima, cioè, sul... E di questo sono molto contenta, cioè, è stato fin dall'inizio l'obiettivo e penso di averlo fatto, insomma. E devo dire, guarda, questo è una cosa che mi ha molto colpito, no? Già nel set io sentivo che era un'operazione in qualche modo forte. Cioè, il fatto che c'era Valerio Binasco, grandissimo attore, ma io davo più attenzione a Denise Tantucci, una ragazzina, diciamo, per non parlare di Gaia Bocci e di Olimpia Tosatto, che era la bambina di quattro anni. Questo già era in qualche modo un atto, diciamo, eversivo, no? E era proprio... Infatti sentivo nel set come per dire, ah, ma... Cioè, perché dai tutta questa attenzione a queste bambine, a queste ragazze? Era proprio, diciamo, scusa Valerio, però in questo caso, oggi, non sei il protagonista, scusami, no? E' stato un po' spiazzante, anche per tutti, per me stessa, non so come dire, però l'abbiamo fatto e anche Valerio ha capito ed è stato bello, è stato forte. Si può definire un film femminista? Forse per quello che ti sto raccontando, sì. Cioè, l'azione di mettere al centro in questo modo, perché sai, poi si dice sempre, ma poi di fatto, no? Si fa un po' fatica. Forse addirittura, penso, secondo me si faceva di più nel cinema degli anni... Cioè, c'era un certo cinema italiano, per esempio, degli anni 60, 70, che poneva al centro le donne, no? I vari Antonioni, ma anche Pietrangeli, eccetera. Poi non lo so perché, ma un po' questa è una cosa generale, e diciamo, l'uomo ha cominciato a prendere più importanza, e però era sempre comunque l'uomo che dava importanza alla donna, cioè lo stesso, diciamo, Robert, che diceva Madame Bovary-Semois. Cioè, qui invece, niente, come poi altre, mica solo io lo sto facendo, cominciamo a dare invece un'importanza più al personaggio femminile. Questo forse è l'essere femminista, è lo sguardo. Non tanto nei temi, vabbè, quello sì, però, insomma, questo è normale. Bene, dicevamo prima, parlavamo di scenografia, costumi, e in effetti è un film con un piccolo budget, ma oltre alla fotografia, che è evidentemente uno dei protagonisti del film, anche una scenografia con questa splendida villa, in campagna, isolata, in contrasto con la città, e nei costumi, che io ho trovato splendidi, è un film piccolo ma curatissimo. Ci puoi raccontare qualcosa di più? Allora, la fotografia, diciamo, la firma Marco Grazie Plena, che aveva fatto, che vive a Parigi, è un ragazzo romano, che vive a Parigi, aveva fatto anche Mactunghe My Love, per dire con Kishish. E questo, diciamo, con lui abbiamo lavorato in modo particolare, cioè nel senso abbiamo cercato di ricreare in qualche modo il chiaroscuro, che è una cosa che si fa poco adesso, cioè cercando appunto di pensare le luci in modo come fosse pellicola, insomma, cercando il chiaroscuro, cercando i neri, di solito non si fa, ma noi l'abbiamo cercati, diciamo. Ed è difficile perché, diciamo, l'elettronica predilige i grigi, però non era un film da grigi questo, quindi, insomma, in qualche modo un riferimento poteva essere The Adars, ma anche il cinema degli anni 50, e per esempio abbiamo visto tanto, insomma, La morte corre sul fiume, insomma, avevamo dei riferimenti forse non proprio usuali, insomma. E vabbè, e questa, diciamo, la prima cosa, anche se poi in realtà non sempre abbiamo cercato il chiaroscuro. Per esempio, nelle scene dove le ragazze dovevano essere in qualche modo schiacciate, c'è questa luce sopra diffusa, no, che le schiaccia nei quadretti femminili. Insomma, comunque abbiamo fatto un lavoro, sì, preciso, diciamo, cercando sempre, diciamo, di trovare il senso, no, non solo l'estetica. E questo va bene. Poi dopo, invece, nei costumi, vabbè, lì ci siamo scatenate, nel senso, tieni presente che noi abbiamo fatto una preparazione di dieci giorni, che è pochissimo. No, veramente, guarda, è... Cioè, prima, cioè, dieci giorni prima non avevamo un costume, non avevamo la casa, non avevamo niente, cioè... Però, devo dire, e se no sembriamo delle maghe, diciamo, sembriamo dei troppo bravi, noi avevamo l'esperienza di non uccidere di una serie TV, cioè con alcune persone noi avevamo già lavorato per due anni, quindi, in qualche modo, in queste, in questa serie, una volta abbiamo fatto un... abbiamo allestito un albergo dal nulla in tre giorni, quindi, in qualche modo, avevamo un'esperienza, insomma, e se no era troppo difficile. Eh, dieci giorni. E quindi, insomma, sì, avevamo tutta una serie di... di, diciamo, per le scenografie, tipo un catalogo, no, abbiamo scelto i pezzi, ta-ta-ta-ta, insomma, nei vari bricche-bracche, insomma, vintage della zona. Poi, invece, nei costumi, lì siamo state proprio, diciamo, è stata una specie di tour de force e li abbiamo disegnati e realizzati, cioè, sono costumi fatti apposta. Quindi avevamo queste sarte che tutto il tempo, la notte, cuccivano, perché io volevo esattamente questo tipo, cioè, lo so, è, diciamo, un po' estremo, no? La costumista all'inizio, Carola Finocchio, che è una bravissima costumista torinese, diceva, ma forse esageriamo? Dico, sì, è chiaro, questa cosa ci mette, diciamo, in un certo filone, no? Che è quello del cinema, appunto, rischia di essere un film di genere, no? Però noi, cioè, io lo volevo perché sentivo, insomma, che questa cosa era giusta così, in qualche modo. Ma è anche parte del fiabesco, forse, no? Esatto, esatto. Cioè, in qualche modo, io avevo fin dall'inizio deciso questo aspetto fiabesco, non preoccupandomi più di tanto, appunto, che potesse essere interpretato come genere. Non ci vedo nulla di male. Cioè, il cinema d'autore, per me, è d'autore nel momento in cui uno esprime qualcosa di suo, di personale, poi tutto il resto, diciamo, se lo fa, appunto, con delle sfumature horror, va bene. Non lo so, cioè, noi abbiamo lavorato veramente in modo preciso, diciamo. Abbiamo disegnato ogni costume, perché in quel momento mi sembrava che fosse, diciamo, lo costume giusto per ogni scena. Sì, è stato un lavoro molto preciso. Anche per dire, di solito, magari si fa meno, no? Essendo tutti lì a Torino, perché appunto ho voluto tutti insieme, no? La preparazione è farla tutti insieme. Abbiamo lavorato anche con lo, cioè, diciamo, in sinergia. Cioè, essendoci il direttore della fotografia, la costumista, lo scenografo, vedevamo anche rispetto alla palette dei colori come muoverci insieme, no? Cioè, il muro, addirittura il muro legato al vestito. Perché se no, poi questo effetto non si ottiene, no? Perché è chiaro che un vestito su un muro o di un colore risalte in un modo diverso. E quindi abbiamo fatto così. C'è anche un po' un mio gusto, diciamo, negli ultimi anni. Io ho guardato un po' a questo cinema anche orientale, no? Sto pensando di, che ne so, insomma, a Stoker, insomma, a vari film orientali che hanno questo gusto estetico molto forte, a metà, in qualche modo, con il genere. E insomma, c'è stata tutta una serie di riferimenti a cui ho guardato, chiaramente non particolarmente italiani, ma va bene, insomma, questo è il mio gusto, questo sono il cinema che io amo. Ho pensato proprio questo. Io vorrei vedere, cioè, vorrei fare un film che poi, di fatto, io voglio vedere. Cioè, non ho più voglia di vedere dei film, diciamo, un po' simili. Ecco, un po' simili. Ho avuto l'impressione, negli ultimi anni, che si tendesse a fare dei film un po' simili. E quindi ho provato a fare qualcosa di un po', insomma, particolare. Per esempio, un altro riferimento che posso dire è Lasciami entrare, di Tom's. Questo film straordinario su una vampira in Svezia. E questo è stato un altro film che mi ha ispirato molto. I disegni di Nicoletta Ceccoli, o Ceccoli, che suddividono il film in capitoli. Sono venuti prima o dopo? Prima. Prima. Quindi anche lei è parte con il suo immaginario. No, guarda, è venuto prima perché, lo so, infatti pure quello è incredibile. Guarda, se proprio ti dovessi dire la verità, la primissima ispirazione, diciamo, è stata una mostra che si chiamava Creature Celesti di Nicoletta Ceccoli, dove c'erano quei disegnini lì e io le ho scritto a Nicoletta che non conosco. Cioè, le ho scritto per Facebook, sai, la classica cosa che ormai si fa, dicendo, guarda, sai, ciao, ciao. Lei è di San Marino? Ciao, mi chiamo Emanuela Rossi, sono una regista e vorrei usare i tuoi, diciamo, disegni. E lei mi ha detto, guarda, vediamo il film e poi ti dico, perché chiaramente lei è un'artista molto quotata a livello internazionale, quindi il budget sarebbe stato impossibile, insomma, prendere i diritti. Quindi le ho detto se me li poteva dare gratis. e lei ha detto, vediamo il film e poi ti dico, e poi l'ha visto e ha detto, sì, sì. Ok, mi piace, mi piace moltissimo e quindi ci siamo trovate, insomma, addirittura mi ha aiutato lei a sceglierli. Non ci siamo mai viste con Nicoletta Ceccoli, ma mai, ci siamo solo scritte. Neanche ora. No, 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 assolutamente, perché, non so, lei penso sia anche molto riservata, ma insomma, ci siamo trovate su tutto, intese su tutto, è stato molto, molto bello e io chiaramente in alcune scene, diciamo, del film, le ho fatto un omaggio, questo penso si veda, c'è una scena dove, diciamo, taglia le zucchine, Denise Stella taglia le zucchine e una patata, e quella proprio ci siamo messi lì col disegno davanti, insomma, le volevo fare questo omaggio. Beh, insomma, non so come dire, mi divertiva usare dei riferimenti diversi, no? Ma, in questo mondo di favola, un po' perché negli ultimi anni, io di favole ne ho lette tante, perché ho questa figlia, diciamo, questa bimba di dieci anni, e per la prima volta, perché poi, sai, uno da piccolo, non so, non si ricorda, mi sono messa lì a leggere tutte queste favole, con queste illustrazioni straordinarie, perché ai nostri tempi, sì, erano belle, ma insomma, fino a un certo punto, no? Queste illustrazioni, adesso ci sono delle illustrazioni incredibili, incredibili, no? la Combe, la stessa Ceccoli, ma insomma altri, e abbiamo comprato con costanza tutti questi, diciamo, libri, e anche lì avevo voglia, insomma, di farmi ispirare da questi racconti, da questi, quindi, insomma, alla fine è venuto un po' un film, diciamo, no? Una storia, appunto, una specie di favola dark, mi divertiva, mi divertiva, ecco l'idea. Tu hai detto che, insomma, vi siete in qualche modo ritirati in gruppo una decina di giorni prima per fotografia, costumi e scenografia, e invece com'è stato il lavoro con gli attori, anzi, principalmente anche con le attrici, che sono tutte molto giovani? Eh, guarda, quello è stato un lavorone, cioè, quanto, diciamo, abbiamo corso nel, nella scenografia, nel costumi, lì è stato veramente un, un delirio, no, con le ragazzine non ho corso, non ho corso perché ho troppo, diciamo, rispetto per delle bambine, non è che potevo buttarle in una situazione del genere, non ho corso affatto, non ho rubato niente, non sono lì a mettere delle bambine, a farle piangere, perché così noi le guardiamo, no, no, cioè, no, è stato un lavoro di mesi, di mesi, io sono a Roma, diciamo, lasciamo perdere la piccola, vabbè, e loro, una a Torino e una a Milano, quindi io andavo su, fai conto, ogni quindici giorni, ci incontravamo a Milano o a Torino e parlavamo di questa, diciamo, di questa cosa, siamo messi a parlare, chiaramente non provare, perché poi, insomma, non è che ci fossero chissà quali battute, no, cioè, il film è molto scarno, però, provavamo, diciamo, la situazione, non so come dire, parlavamo di, di queste cose, in qualche modo, non dico facendocele entrare, ma, insomma, cercando di, sì, di farcele entrare, ecco, di farle un po' anche, sentire, non dico un dolore, ma, ma forse sì, perché dico, cioè, voi dovete capire, no, che cosa provano, queste, bambine di questo tipo, ragazze di questo tipo, che cosa possono provare, e in qualche modo, forse ci siamo riuscite, perché, diciamo, una cosa che mi hanno veramente detto tutti, che le, le ragazze, alcuni mi hanno detto, sembrava, sembrava che soffrissero, io le dovevo aiutare, sì, anche, devo dirti che anche, anche a me, a fare tante emozioni, ha suscitato questo, c'è un desiderio quasi di aiuto, quindi, devo dire che sono state efficacissime, nella loro interpretazione, seppur, o giovani, o comunque bambine, beh, diciamo, Denise, insomma, ha una ventenne, poi, vabbè, le altre, sono piccolissime, ma non è questo, cioè, il punto è cercare, di appunto, di non rubare, no, di non star lì a rubare a delle bambine, delle espressioni, no, volevo che loro fossero assolutamente consapevoli, e questo ha richiesto molto tempo, ecco, questo ha richiesto molto tempo, ci siamo viste tante volte, però è giusto così, cioè, non vedo perché non, cioè, si lavora su tutto, non vedo perché non si dovrebbe lavorare su una cosa del genere, no? Beh, molto rispettoso. Sì, cioè, questo, questo, vabbè, io ho fatto, ho fatto in questi anni una scuola di recitazione, diciamo, molto importante, che si chiama Alduse, di Francesca De Sappio, e quindi, insomma, in qualche modo, su questa cosa, insomma, mi ha dato tanto. E su che cosa hai puntato per fare, come dici tu, entrare queste ragazze in questa situazione? Perché è prima del lockdown, è prima di tutto questo, quindi, insomma, forse era una situazione per delle ragazze, sconosciuta, completamente inedita. Beh, oddio, su ognuno di noi, secondo me, dentro di sé ha tutto, no? In qualche modo, e basta solo, cioè, anche un semino, diciamo, ce l'ha, no? Quindi andare a ascoltarle, parlarci, e capire che cosa della loro esperienza, no? Può risuonare. E come è stato, invece, il rapporto con Valerio Binascos, ma che è un attore di teatro, consumato, ed è stato, devo dire, bravissimo a inscenare questo rapporto, di violenza nascosta, e di manipolazione? Beh, insomma, Valerio è un piacere, diciamo, Valerio è un piacere, perché è una persona coltissima, è una persona interessantissima, ecco, di Valerio mi ricordo soprattutto l'interesse, cioè, mi ha interessato, mi ha interessato, sarei stata lì ascoltarlo, a parlarci per sempre, vabbè, quando c'è uno così, diciamo, preparato, è un piacere, incontrarsi, ecco, lui, chiaramente, con lui non è stato fatto un lavoro così lungo, chiaramente ci siamo visti poche volte, perché, vabbè, perché funziona così, insomma, no? Poi non c'era tanto bisogno, non c'era tanto bisogno, eh, no, no, diciamo, sapeva perfettamente la situazione, però, viceversa, però, viceversa, ehm, anche abbiamo trovato dei momenti, insomma, con le bambine, cercando di, insomma, vabbè, qui sono i segreti del set, insomma, cercando, insomma, in qualche, ma alla fine c'era la piccolina che diceva, papà Valerio, papà Valerio, no, era un po' schizofrenica come storia, perché prima tutto il dramma, poi dopo, ci, ci, ci. Eh, beh, è normale, si stai insieme così tanto, insomma. Eh, no, no, insomma, era, poi le bambine, ci devo dire, grazie a Dio e forse anche grazie a me che le ho scelte, diciamo, avevo capito che erano bambine abbastanza intelligenti, molto, anzi, direi, e quindi non c'è stato per niente, diciamo, un clima di tensione o di, no, 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 c'erano, diciamo, proprio, su questo assolutamente no, perché qualcuno mi ha detto, ah, ma le hai fatte soffrire, dico, no. Non c'era bisogno di fare Shining. No, non c'era, non c'era questa cosa, perché, diciamo, avendo ben capito la situazione, facevano quello, poi dopo si staccava subito, non, non ho visto strascichi, cioè, non c'era paura, insomma, no, è andata bene, eh, sì, ah, Shining, Shining, va bene, che hai visto, non ho resistito, quando l'ho vista nel corridoio, l'ho messa, l'ho messa tutta in fila lì e ci siamo, beh, lì ci siamo, siamo anche divertiti. Ma sì, beh, di citazioni cinematografiche, ce ne sono tante, ed è anche, insomma, divertente rintracciarle, però, ecco, non credo che, eh, questo, tolga il film, assolutamente, anzi, è un gioco divertente, che si può fare guardando un bel film. Senti, ma dimmi, dimmi di te, cioè, dimmi che cosa ne hai pensato del film. Eh, io sono, assolutamente entusiasta, quindi, no, mi è piaciuto moltissimo, mi è piaciuto, sia dal punto di vista estetico, perché a volte ci sono film esteticamente molto, molto curati, che però, nella storia sono un pochino più faraginosi, invece si vede che tu sei una, anche una sceneggiatrice, perché la storia è molto bella, anche se i dialoghi sono asciuttissimi, anche se il testo è molto ridotto, e spendi dalla fotografia, i costumi che mi hanno molto colpito, come ti ho già detto, e devo dire anche, eh, questi rapporti di, di amore, potere, eh, che poi si, a un certo punto di vista, si ribaltano, si spostano, eh, nella storia, sono estremamente interessanti, quindi, anche questo è un aspetto che mi ha interessato molto. C'è la contraddizione, diciamo, in qualche modo? Sì, poi, la contraddizione, ma anche che, cioè, da un certo punto di vista, il, c'è tutto un aspetto, nel rapporto con la madre, che in qualche modo, ti sostituisce come figura femminile, principale, perché infatti viene chiamata regina, si pugnala come si era pugnalata la mano, insomma, tutta una serie di aspetti che lo rendono molto denso, molto interessante. Quindi, l'ho apprezzato molto, e vorrei rivederlo ancora, ancora, forse per capire, no, no, è un film che mi è, mi è molto piaciuto, da, da tanti punti di vista. beh, devo dire, già partire dalla locandina, che trovo molto potente, e di locandina, insomma. No, infatti, la locandina, diciamo, sono contenta. E, beh, diciamo, che in quel, cioè, in quel tipo di densità, che dici tu, forse c'è anche un po', un mio gusto, di un certo cinema, anche un po' vecchio, non so come dire, un po' antico, no? Cioè, il cinema, in qualche modo, che vedevo da ragazzina, ecco, tipo Hitchcock, quel tipo di cose, che adesso si fa meno, no? Cioè, si tende a una narrazione più lineare, più, più sul presente, e io ho detto, ma aspetta un attimo, cioè, proviamoci un attimo. Insomma, sì, in Italia si fa poco, no? Cioè, essendo molto legati al realismo, al neorealismo, chiaramente, si tende, a non ricamare, non so come dire, si tende a una narrazione più. Però, io quel cinema lo amavo, e lui ha detto, ma aspetta, perché non farlo? Ma, secondo me, è anche riuscito. Poi provarci, insomma, provarci, ecco. Sai perché? Anche perché, andando a fare un film sull'adolescenza, è chiaro che uno, in qualche modo, o anche proprio la fanciullezza, no? ripensa anche un po' la sua, e a me, se penso a quel periodo, più che le mie vicende personali, paradossalmente, mi ricordo di più quelle cinematografiche. Cioè, mi ricordo più quello che vedevo che quello che facevo. Evidentemente, insomma, questo cinema mi piace molto. Eh beh, doveva, cioè, c'è una predistinazione, insomma, in qualche modo. Direi, direi, una domanda, se vuoi, un po' provocatoria, ma questo lockdown ha aiutato il film? Sì, secondo me un po' sì. Secondo me un po' sì, perché io ho notato anche, insomma, rispetto a quello che è successo, no? Nel senso che il film è uscito ad ottobre, alla Feste del Cinema di Roma e è piaciuto molto, perché abbiamo vinto anche il premio per il film italiano, diciamo, però vabbè. Poi, a febbraio, alcun, diciamo, almeno 50 persone mi hanno telefonato, scritto, dicendo, ma, oddio, il tuo film, lo sto ripensando. E quindi lì, diciamo, si è creato molto più, ancora più interesse, insomma, anche perché una cosa che sembrava, vabbè, così un po' strampalata, improvvisamente sembrava quasi di preveggenza, no? E io lo dico sempre, però, non è che uno così per caso, no? In qualche modo avevo questa sensazione fortissima che qualcosa sarebbe arrivato. Quindi hai captato qualche segnale. Sì, sì. No, ma questo io penso sia normale, no? Cioè, l'autore in qualche modo distopico, per certi versi, è sempre esistito, cioè, sempre, no? Poi io, banalmente, cioè, in modo molto modesto, qualche mese, diciamo, ma c'è gente tipo Ballard, Philip Dick, che hanno previsto cose trent'anni prima. Cioè, Ballard aveva fatto nel 1962 un libro scritto su su un sole malato che scioglieva tutto e le città sarebbero state sommerse. Quindi, voglio dire, e la gente viveva in casa chiusa, al buio. no, vabbè, ma è perché i segnali ci sono, no? È solo una questione di segnali, cioè, di segnali che vanno un attimo, diciamo, visti, ma, insomma, si capiva prima della pandemia che, insomma, stavamo un po' esagerando, no? In qualche modo. Il padre sarà matto di buio, ma, insomma, anche come tutti i matti qualcosa vede. probabilmente sì, c'è anche un messaggio, se vuoi, ecologista in questo film tra i tanti piani che si possono leggere. Beh, insomma, io, diciamo, adesso stiamo parlando troppo perché magari non, spero che... questa viene messa in onda dopo, dopo la vista del film, quindi non riveliamo nulla. Allora, sono più tranquilla, insomma, chiaramente, senza dire troppo, ma, insomma, l'ultima parte che è stata per noi la più impegnativa, no? Da un punto di vista economico, perché quando si comincia a lavorare anche con l'elettronica, con, diciamo, con la grafica, con, no, come volevo dire, con gli special effects, eh, insomma, comincia, no? Il budget comincia a salire, però, a parte che devo ringraziare tantissimo, abbiamo trovato questa società, la Frame by Frame, che ha aderito, insomma, che ci ha aiutato, ci ha sostenuto, e quindi siamo riusciti ad avere effetti sinceramente americani, cioè, quindi, questo, per me, è un valore molto importante, aggiunto per un film, appunto, con piccolo budget, e questo, forse, ci ha permesso di entrare in un circuito internazionale di festival, di fantascienza, credo che sia uno dei pochi casi italiani, adesso noi, l'altro giorno, siamo stati a Sydney, no? al festival di Sydney, di science fiction di Sydney, e Denise Santucci ha vinto miglior attrice, e secondo me, direi che in Italia, quante attrici hanno vinto miglior attrice in un festival internazionale di fantascienza? Non credo molte. Insomma, sono molto soddisfatta, cioè, sono molto soddisfatta, perché appunto, con, sinceramente, con un budget, diciamo, minimo, vorrei vedere gli altri film, quanto sono costati quelli che stavano a Sydney, con un budget minimo siamo riusciti a essere competitivi in un mercato, insomma, non è come andare a vendere il ghiaccio agli eschimesi, cioè, siamo stati a Brooklyn e hanno detto, ah, fantastico, al festival Nice Dream, che è appunto un festival da horror di fantascienza, e tutti, ah, bellissimo, insomma, veramente vendere il ghiaccio agli eschimesi, cioè, quindi, sono contenta, e per un lato io non sono un'appassionata, diciamo, di, cioè, non è che il mio, diciamo, no, sai, quelle appassionatissime di horror, assolutamente, diciamo, semplicemente, ecco, questa storia forse lo richiedeva. Perfetto, Manuela, io ti ringrazio tantissimo e io personalmente aspetto il tuo prossimo film e penso noi tutti. Grazie. Grazie mille. Buona giornata. Ciao. Grazie mille.